Così ti cercherà, gli mancherai e si innamorerà, smetti di farlo. Allora, se vuoi che un uomo si coinvolga con te, se vuoi che un uomo si innamori, anche fortemente di te, perché diciamoci la verità, tu puoi far innamorare se riesci a dare i giusti stimoli, se riesci a coinvolgere a più livelli una persona, questo lo puoi fare, devi però evitare assolutamente, questo è molto importante, di fare una cosa, cioè di metterti, tra virgolette, al servizio di questa persona. Cosa vuol dire mettersi al servizio di questa persona? Beh, vuol dire semplicemente deve evitare di dare eccessiva disponibilità, ma soprattutto andare a chiudere completamente la sfera emozionale, perché devi tenere presente questo, come ho già detto in tanti video, noi siamo fatti di emozioni e uno dei modi, diciamo, per non produrre emozioni, non produrre emozioni nel modo sbagliato, è di diventare praticamente una persona che è la copia, la fotocopia del genitore buono, perché il genitore buono, quindi se tu ti metti a fare il genitore buono, tra virgolette, nei confronti di questa persona, non coinvolgerai, perché quello che coinvolge veramente è il genitore, tra virgolette, cattivo, o il genitore, il comportamento reale del genitore cattivo, perché a livello simbolico nella nostra mente ci sono due tipologie di simboli, c'è un simbolo per così dire buono, istituzionale, se vogliamo, che è rappresentato ancestralmente dal genitore buono, e poi c'è un simbolo invece che è rappresentato dal genitore cattivo, quello che abbiamo giudicato trasgressivo nei nostri confronti, cioè che ha trasgredito a quelli che erano le nostre esigenze, e quindi questo genitore, tra virgolette, cattivo è quello che di più ci seduce, quello che di più ci coinvolge. Quindi quello che tu dovresti imparare a fare invece è capire quale dei due genitori è il genitore cattivo, tra virgolette, cattivo tu non lo capisci da quello che ti dice lui a livello logico e razionale, ecco un errore è quello di pensare che il comportamento logico e razionale sia quello che ti indica quale è stato il genitore cattivo, cioè cattivo poi per la parte logica, perché per la parte emotiva è stato il genitore coinvolgente, il genitore che l'ha fatto innamorare, quindi quello che devi imparare a fare è andare a invece a dare degli stimoli, degli stimoli che possono appunto coinvolgerlo, che possono appunto farli innamorare, questo è il punto fondamentale, la cosa fondamentale che dovresti imparare a fare se vuoi conquistare e far innamorare un uomo. Ora quindi come fai a capirlo? Beh i genitori sono due, padre e madre, quindi devi prima istanza, devi capire quale dei due è quello che lui ha reputato cattivo, tra virgolette, da un punto di vista logico ma buono, quindi coinvolgente da un punto di vista emotivo e poi cercherai di capire qual è stato il suo comportamento, poi ti darò altre indicazioni su cosa fare. Quindi come, perché se tu invece fai come naturalmente diciamo accade, e poi insomma il genitore buono, il genitore buono è ovviamente quello che coccola, che dà stabilità eccetera, beh allora non ottieni proprio nessun risultato. Ecco quello che dovresti imparare a fare da questo punto di vista è se vuoi raggiungere questo risultato è praticamente imparare a dare gli stimoli necessari, gli stimoli giusti. Quindi per capire qual è il genitore, ad esempio devi iniziare a parlare di padre, di madre, insomma, magari anche non in un contesto preciso, potresti dire che ne so, l'azienda madre ci ha tradito, oppure il padre eterno, oppure mio padre parlando di tuo padre, senza andare a tirare in ballo il genitore giusto, il genitore diciamo reale di questa persona, perché potresti innescare meccanismi di difesa. E poi osservare di rimando i segnali che ti dà questa persona, dove ti dà dei segnali di gradimento emotivo, significa che lì c'è un turbamento sottostante, dove invece ti dà dei segnali di rifiuto, quello non va bene, perché dava una qualità di emozioni negative. Anche magari potrebbe essere stato il genitore buono, per cui lui potrebbe darti sul genitore buono, o rifiuto, oppure fare nulla. Sul genitore che invece, tra virgolette, cattivo, che l'ha conquistato, ti darà dei segnali di gradimento emotivo. Vatti a vedere tutti i video che ho fatto sui segnali di gradimento emotivo, segnali subliminali, diciamo, ne ho fatti tantissimi, quindi ti daranno, vatti da vedere, e potrai capire, diciamo, come renderti conto se quel genitore è veramente quello, tra virgolette, cattivo. Cattivo, ma che coinvolge. A questo punto devi capire qual è stato il comportamento, perché tanto c'è differenza tra madre e padre. Se fosse padre, dovresti comunque avere tu un comportamento nei suoi confronti un po' più rigido, più autoritario, un po' più bacchettante. Comunque, no? E poi, ovviamente, capire se il genitore è stato presente o è stato assente. Questa è un'altra caratteristica fondamentale che devi riuscire a cogliere. Se tu riesci a cogliere anche questa cosa qua, beh, avrai risolto praticamente il tuo problema. Perché poi, una volta che ricalchi un ruolo genitoriale, devi poi imparare a strutturare un comportamento che possa essere, diciamo, o bacchettante, oppure, diciamo, nel caso materno, o meno bacchettante. Ma l'altra informazione che ti manca, perché poi il genitore reale, come si comportava? Era presente o era assente? Quindi anche qua, devi eccessivamente presente, cioè rompi i coglioni, oppure eccessivamente assente, cioè un po' meno freghista. Ecco, quello che devi imparare a fare è capire ancora questo tassello. Come fare a capire questo tassello? Anche qua devi parlare di abbandono, ad esempio, di condizionamento. Uno che ti condiziona è perché è troppo presente, uno che ti abbandona è perché è troppo assente. Quindi devi capire e calibrare, ancora usando sempre questa strategia della comunicazione non verbale, che ti permetterà di cogliere, ti permetterà di cogliere quelli che sono i segnali. e quindi diciamo che i due estremi sono l'essere troppo presente e l'essere troppo assente. Quindi gestisci queste due modalità e avrai fatto bingo fondamentalmente, devi capire, perché poi tu dovrai comportarti in monanalogo. Cioè, o essere condizionante, devi fare questo, devi fare quello, espresso nella modalità rigida, nella modalità morbida, oppure devi essere, come dire, un po' meno freghista, assente. Ecco, facendo in questo modo, ti cercherà, gli mancherai e si innamorarà di te perché andrai a ricoprire proprio il ruolo del genitore conflittuale nei suoi confronti che crea il ruolo che seduce. Bene, condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale, ti mando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Iscriviti a tutti i miei canali YouTube, anche al nuovissimo canale YouTube esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. E... Bene.